per la terza e ultima batteria in corso alla tre Davide Pizzotto alla quattro Marco Deano alla cinque Niccolò Trabacchi alla sei Thomas Santer alla sette Riccardo Citro 56 e 89 Federico Mestroni in su Federico Pignaton 57 e 76 quindi alla partenza terza e ultima batteria di cento d'avis